La polizia locale del comandante Gerardo Iuliano ha provveduto a redigere la prima denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, sancito nel nuovo decreto ministeriale del 9 marzo, in quanto senza giustificato motivo una persona transitava nel comune di Battipaglia, proveniente da un'altra città, non avendo dimostrato motivazioni che ne giustificasse la presenza, cioè lavoro, salute o gravi motivi, rischia un'ammenda pecuniaria fino a 206 euro. L'arresto è fino a tre mesi di carcere. Continuano i controlli della polizia locale unitamente alla polizia di Stato nell'intento di assicurarle il rispetto delle norme.